Parlavamo di crisi con il sindaco di Gualdo Morroni, ovviamente crisi globale ma che si ripercuota anche a livello locale, siamo partiti dal caso Merloni ma non c'è solo il caso Merloni, anche segmenti dell'economia gualdese storica come quello della ceramica che ancora prima che esplodesse la bolla di questi ultimi 12 mesi lamentava una situazione critica, da dove si riparte abbiamo detto? Concretamente quali possono essere gli appiglia dai quali poter ricostruire questo scenario economico anche locale che lei ha detto non può più affidarsi a un treno che è arrivato al Capolinea? Noi il 16 gennaio lanceremo questa iniziativa del patto sociale, che ho già avuto modo di anticipare su alcuni organi di stampa e che è oggetto di una fase di incontri che abbiamo avviato prima delle festività natalizie con diversi soggetti economici nel nostro territorio. Sarà un'idea importante, sarà un'idea forte, sarà un'idea molto ambiziosa, però credo che varrà la pena indirizzare tutte le nostre energie in quella direzione perché il tema di fondo e la sfida di fondo che dobbiamo essere in grado di affrontare e di vincere è questa. Waldo ha bisogno di una nuova generazione di imprenditori, perché oggi giorno il lavoro si crea solo così, non abbiamo più un capitalismo di Stato, quindi lo Stato imprenditore che investe, che crea posti di lavoro e magari lo fa a volte anche senza prestare molta attenzione. Adesso lo Stato non ha più un euro. Questo ruolo dello Stato oramai è un ruolo definitivamente archiviato, quindi lo Stato imprenditore non c'è più. Devo dire che esiste, ma in maniera molto attenuata rispetto agli esempi che la storia del nostro paese ci ha offerto, il capitalismo cosiddetto assistito, che quando va bene si riempie le tasche e quando va male arriva lo Stato. Esistono ancora testimonianze in tal senso, ma molto molto più tenue rispetto a quelle che, ripeto, la storia del nostro paese ci ha offerto. Ci vogliamo mettere un per fortuna? Ci vogliamo mettere? Io credo di sì, io credo assolutamente di sì, però rispetto a questo scenario dobbiamo essere intanto consapevoli che posti di lavoro si creano solo e soltanto se ci sono imprenditori che investono, che rischiano, che dedicano tutte le proprie energie affinché le proprie realtà aziendali possano crearsi e prosperare. Ma esistono questi imprenditori, questi giovani che hanno voglia di rischiare, di fare impresa? O è un'ordinazione che è saltata? Dobbiamo aspettare la prossima. Io credo che a Guadalupe Tadino abbiamo saltato un paio di generazioni, a causa anche dello sviluppo che vi è stato nel nostro territorio. Il contatto magari che vi poteva essere, parliamo dei primi anni 70, tra chi lavorava nell'azienda e stava a contatto con l'imprenditore, magari le persone un po' più ambiziose, quelle un po' più dinamiche, piano piano cominciavano a maturare l'idea che un bel giorno si sarebbero trovati nella condizione di fare il salto e diventare loro imprenditori. Il nostro sviluppo è nato così negli anni 70, perché le aziende che nacquero a Guadalupe Tadino, alcune delle quali ancora oggi sono in campo, sono aziende prestigiosi, importanti, sono state il frutto della volontà di persone che facevano i dipendenti nelle aziende storiche di Guadalupe. E poi nel momento in cui si sono trovati pronti, i giovani magari hanno deciso di gettarsi nell'esperienza imprenditoriale. E allora noi se vogliamo, ed è questa la strada obbligata che dobbiamo percorrere, creare le condizioni affinché nascano nuove imprese, magari micro imprese, dobbiamo creare le condizioni affinché chi ha voglia, chi se la sente, possa trovare quella spinta per rimettersi sul terreno dell'interpresa, di uno spirito imprenditoriale che possa ritrovare smalto, possa ritrovare gusto, possa ritrovare energia. Poche settimane fa avevamo qui ospite un ingegnere gualdese che ha progettato il più grande parco fotovoltaico in Umbria, quindi per fortuna, non solo per Guadalupe, ma in generale, la nuova generazione ha di questi esempi, forse sono questi gli esempi di innovazione, di preparazione, di formazione da cui ripartire. Esattamente, perché vedete, il mondo nel quale ci troviamo offre tantissime opportunità. Il problema è che molto spesso non riusciamo a vederle, perché nei nostri occhi c'è il mondo dal quale veniamo. E allora i giovani sono naturalmente i soggetti più predisposti a questi strappi, perché sono meno condizionati dal passato. E quindi sono più liberi, sono più agili nel voggere lo sguardo verso i nuovi fronti di impegno e sono più pronti a dispiegare le loro energie in questa direzione. Questa è la strada che dobbiamo percorrere. Allora, con riguardo agli indirizzi, noi su questo, non voglio anticiparlo quest'oggi, perché non voglio anticipare i contenuti dell'incontro del 16, un aspetto solo, così almeno... Noi andremo ad individuare alcuni filoni di intervento, dove possono nascere nuove opportunità di lavoro. Lei poco fa ricordava questa esperienza del parco fotovoltaico, che è parte di un fronte molto ampio, che è quello delle energie rinnovabili. In questa direzione l'amministrazione, con il piacere di guidare, si è impegnata fortemente. È uno dei punti salienti della proposta di governo con la quale ci siamo presentati al giudizio degli elettori e che abbiamo presentato in occasione del nostro insediamento all'attenzione del Consiglio Comunale. Waldo ci adopereremo affinché possa diventare una zona di eccellenza nella produzione di energie rinnovabili. Guardiamo a questo orizzonte con la consapevolezza che potranno nascere lungo questa strada molte opportunità di lavoro, nuove, innovative, perché non guardiamo le energie rinnovabili solo in termini di interesse per i vantaggi anch'essi importanti che si possono determinare sul versante del risparmio delle bollette energetiche, del contributo statale di cui c'è possibilità di godere. Aspetti importanti, così come il patto dei sindaci, l'impegno per ridurre le emissioni di CO2, tutte cose importanti, fondamentali. Ma oltre a questi aspetti noi guardiamo al filone delle energie rinnovabili anche come occasione per la nascita di nuove forme di lavoro e di nuove attività imprenditoriali. Abbiamo un settore, che è quello della ceramica, storico, tradizionale per noi. Ebbene, lì dobbiamo avere la capacità di individuare ciò che ancora funziona, ciò che ancora può avere prospettive e ci sono branche che possono assolvere questo compito, ma ci sono anche settori, segmenti produttivi che oramai sono segnati. Sono segnati. Ah, su questo versante c'è uno sforzo, a mio avviso significativo, che va nella giusta direzione, che è quello messo in campo dalla Protadino, con la riedizione del concorso internazionale ceramica. La triennale della ceramica è stata un'esperienza che ho salutato con molto favore e che come amministrazione abbiamo sostenuto perché ritengo che vada nella giusta direzione, vale a dire quella di guardare ad una rivitalizzazione, ad un rilancio di quelle parti della produzione ceramica che possono avere queste prospettive davanti attraverso un incontro del mondo produttivo con il mondo dell'arte, quasi come serbatoio dal quale poter innescare dei processi di rigenerazione, di qualificazione produttiva perché qualunque cosa noi andremo a fare in qualunque settore dovremo avere ben chiaro in testa che oggi ciò che funziona è ciò che è espressione di qualità e di eccellenza. Non si può improvvisare, non si può puntare e volare basso, dobbiamo puntare a dare il meglio e a fare il meglio in qualunque campo, in qualunque settore. Quindi se vogliamo avere futuro, parole come eccellenza, ricerca della qualità, devono essere degli imperativi categorici. E credo che l'esperienza della triennale sia stata capace di tracciare un bel solco, una bella direttrice di marcia. Diciamo un elettroshock un po' rispetto a una situazione un po' di lassismo che si avvertiva prima. Sicuramente. Posso aggiungere un'altra branca, un altro settore al quale guardiamo con interesse e su quale ci siamo mossi anche in questi primi mesi della nostra attività amministrativa. Waldo non ha mai lavorato nella direzione dell'affermazione di una sua identità turistica. Il turismo è un settore economico importante, è un settore che lascia intravedere anche in prospettiva dei volumi di crescita importanti. Noi riteniamo che Waldo Dadino abbia delle risorse per potersi ritagliare un ruolo, un brand, un'identità ben precisa che può metterci all'attenzione dei flussi turistici, di flussi turistici importanti.